La squadra di calcio femminile di Molfetta si presenta alla città nel centro antiviolenza Anna Maria Bufi, gestito dall'associazione Pandora. Vediamo. Sport e interesse sociale si incrociano per sensibilizzare su tematiche importanti come la lotta contro la violenza sulle donne. E' quanto accade a Molfetta nel centro antiviolenza dedicato ad Anna Maria Bufi, la giovane molfettese uccisa nel 1992 dove la squadra di calcio femminile si presenta alla città nel trentesimo anniversario dal barbaro omicidio. Ricordarla è sempre un onore e sempre un piacere e insieme a questo naturalmente ricordiamo ed è per questo che ci battiamo poi giornalmente per cercare di prevenire quanto più possibile e aiutare tutte le donne che si trovano in una situazione difficile. Peraltro questo evento che collega il mondo sportivo a noi è perfettamente in linea con la campagna regionale che è stata lanciata proprio il 25 novembre presso la sede del Consiglio regionale. Una campagna che si chiama Allenati contro la violenza che coinvolge tutto il mondo dello sport e prevede proprio una sinergia perfetta tra i centri antiviolenza e il mondo dello sport. Sono stati prodotti diversi gadget, uno di questi è proprio questo, Allenati contro la violenza. è stato prodotto dalle detenute a combattere la cultura patriarcale, la cultura che vede la donna in una posizione di sottomissione rispetto all'uomo. È un allenamento continuo e costante ed è per questo che passiamo e attraversiamo il mondo dello sport che coinvolge tantissimo le giovani generazioni. Molfetta non dimentica i sogni spezzati di una giovane ragazza che amava lo sport. Per questo motivo si è scelto di presentare la squadra femminile in un luogo simbolo della lotta contro la violenza di genere. La solidarietà è sicuramente importante perché promuove l'onestà e tutti quei valori che sono fondamentali per il rispetto altrui. Noi come squadra cerchiamo appunto di promuovere queste iniziative e tramandare qualcosa per le nuove generazioni.